Quando parliamo di un approccio sull'epigenetica che è la scienza che allunga la vita, parliamo di una vera e propria rivoluzione nel campo della medicina e della salute, direi a partire ormai da una trentina d'anni che divulghiamo l'importanza dell'epigenetica. Io facevo delle riflessioni che poi condividerò con voi e io dico ma se noi sappiamo che comunque ci sono dei fattori epigenetici, ormai basta andare sul PAMED e scrivere epigenetica, sappiamo quanto sia grave il danno epigenetico che viene trasmesso alle future generazioni. Allora gli dico ma se conosciamo, per esempio il fumo fa male, se vuoi migliorare la qualità della tua vita devi smettere di fumare, ma anche perché devi cominciare a smettere di fumare, anzi a non iniziare per niente a fumare, perché sai che il fumo condizionerà non solo la tua salute ma anche quelle delle future generazioni. Allora gli dico oggi ma cosa possiamo veramente fare oggi per fare una prevenzione non primaria ma pre-primaria? Cioè non possiamo e sono davanti con molta umiltà a dei medici veramente capaci, competenti che tutti i giorni hanno a che fare con la loro salute e con la salute dei loro pazienti, quindi apprezzo e stimo tantissimo. La mia è una relazione tecnica di condivisione. Allora io dico cosa stiamo veramente facendo per le future generazioni? Allora io dico partiamo da questo. Quando è l'ultima, è stata l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento? Sicuramente è un grossissimo problema da risolvere perché se vi faccio questa domanda è un problema da risolvere? E voi mi dite, beh, è certo che è un progresso. La seconda domanda, cosa state facendo per risolvere i problemi dell'inquinamento? La maggior parte del mondo dice alla raccolta differenziata o pago una multa legata a quanto inquino. Pensate alla tassa che stanno mettendo, che hanno messo sugli aerei per l'inquinamento. Pensate che ogni aereo inquina come 600 macchine nella sua linea, nella sua traversata. 600 macchine, un aereo. Poi naturalmente noi però dobbiamo usare le macchine elettriche, per carità. Però senza fare polemica dobbiamo aumentare la consapevolezza. Perché se oltre all'inquinamento, che è un grosso problema da risolvere, e noi pensiamo solo, tra virgolette, cerchiamo di prendere l'informazione e i messaggi che voglio darvi, alla nutrizione oppure all'integrazione, non abbiamo una visione di insieme. L'inquinamento è un grosso problema. Sta sprogrammando la vita di intere generazioni. Noi siamo abituati magari a vedere un acquario, andare a visitare un acquario, oppure lo abbiamo in casa, e sappiamo bene che in quell'acquario, se non ci mettiamo l'acqua pulita, l'ossigeno e la nutrizione ottimale per quei pesci, i pesci muoiono. Il problema è che se noi paragoniamo l'acquario al nostro tessuto connettivo e abbiamo grandi maestri di medicina funzionale, di omotossicologia, oggi che magari mi stanno ascoltando, hanno fatto corsi oppure insegnano effettivamente quanto sia importante nella medicina funzionale o di regolazione il tenere un tessuto connettivo pulito, la matrice che sta a cellulare pulita, sappiamo che se noi incominciamo a inquinare questo acquario, magari in questo modo non possiamo sperare di poi trovare la vita in questo acquario. Bene, tutto questo spesso io lo paragono a quello che ogni giorno facciamo alle future generazioni. Mai si sognerebbero le persone di mettere Coca-Cola, patatine fritte, dolciumi, junk fruit dentro a questo acquario. Eppure, però, normalmente lo facciamo mangiando cibi e respirando aria altamente inquinata dentro al nostro cuore. Eppure noi siamo il risultato di una magia. Questa grande dono della vita che ci è stata data è la scintilla della vita, dove questo spermatozoo feconda l'ovulo e lo fa grazie all'energia che ha a disposizione, che è l'energia che ha dentro ai suoi mitocondri. Quindi, pensate, noi stiamo sempre parlando di cellule, stiamo parlando di funzionalità cellulare, stiamo parlando di mitocondri, di DNA mitocondriale, di DNA e di informazione. L'informazione che portiamo, poi da lì si crea la vita. Qualcosa di straordinario. Guardate cosa però abbiamo, con cosa abbiamo a che fare oggi. Oggi abbiamo a che fare che c'è una carenza di spermatozoi, non di nutrizione, di carenza di vitamine, no, di spermatozoi, in calo in tutto il mondo per colpa di inquilamento e stile di vita. Pensate che questo studio, se poi vi interessa ve lo mando, c'è questa pubblicazione, anzi l'ho pubblicata su Facebook oggi, sulla mia pagina, stiamo parlando di proporre ai ragazzi di mettere in una banca un campione del proprio liquido seminale da usare in caso di problemi di infertilità nell'età adulta. Quindi la situazione è grave, molto grave. Ma ce ne ha parlato da sempre, ce ne parla da sempre il grande Luigi Montano, dei massimi esperti del settore, dove ci mette in allarme e dice attenzione, stiamo rischiando l'infertilità. Sapete che Luigi Montano è il presidente della SIR. Mi piace dedicare questa serata, oltre a ringraziare tutti voi, a questo grande della medicina a cui faremo un tributo il 10 settembre a Bologna, al Congresso Internazionale. Qui siete tutti invitati. Lui è salito con i piedi sulla cattida centinaia di volte, cioè un punto di vista, ha cambiato punto di vista. Ha detto attenzione, che fino a quando il discorso non cadrà sui mitocondri, sulla loro importanza in fisiologia e fisiopatologia, proprio con efficaci anche i stangioprotettori, continueremo a assistere a patologie in aumento. Lui parlava poi di terapia ristrutturante mitocondriale, uno dei più grandi medici, che ha scoperto i reali rischi congeniti, ma questo ne parleremo poi magari per chi è interessato, a Bologna, dove ho dedicato proprio a Sergio Stagnaro questo evento, a Siderminotel, dalla cellula all'anima. Per chi è interessato e per chi poi sarà interessato utilizzare S-Drive, invece abbiamo un corso il giorno prima, il 9, un corso internazionale con i massimi esperti a livello mondiale di utilizzo di questa tecnologia straordinaria. Quindi abbiamo solo 250 posti affrettabili. e poi lo faremo, tutto quello di cui parleremo questa sera viene affrontato nella nostra meravigliosa scuola di alta formazione, siamo alla quinta edizione. Ok, anche qui per chi ha il telefonino, lo vuole inquadrare, qui c'è tutto il programma. Comunque, la credenza che la realtà che ognuno vede sia l'unica realtà, a mio avviso è la più pericolosa di tutte le illusioni, ma ce lo diceva Paul Patrolich. Perché se io guardo questo cilindro, e voi guardate il cilindro, alcuni vedono cerchi, altri quadrati, io dico che noi abbiamo bisogno, vista l'emergenza, di unire le forze. Unire le forze tra più discipline, più scuole di formazione, più professionisti, professionisti, proprio unire le forze perché dobbiamo fare presto. Server Bank è nata, pensate, molto prima del 2001, ma nel 2001 hanno iniziato a sviluppare la tecnologia e ci hanno messo circa 15 anni per iniziare il lancio, quindi hanno dovuto fare veramente qualcosa di importante. pensate, 15 anni per mettere a punto questa tecnologia. Nel 2016 sono stati lanciati i primi report, nel 2017 ho avuto la fortuna di conoscerla, era in 56 paesi nel mondo, e poi nel 2018 hanno creato moltissimi report di cui parlerò tra poco. È in tutto il mondo, ha un ufficio in Inghilterra, un ufficio in Germania e un ufficio in Malesia. Il presidente mondiale inglese vive in Malesia. La tecnologia è utilizzata in 70 paesi nel mondo, 15 lingue, medici, nutrizionisti, clinici, veterinari, farmacie. Amo dire che la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino, perché oggi ci siamo, domani non si sa, ma noi quando parliamo di salute possiamo lavorare sul software della vita, sui fattori epigenetici. E questo è importante, il DNA non è il tuo destino. E allora la domanda che faccio è, se l'epigenetica condiziona la salute di intere generazioni, non scrivo mai, perdonatemi se, però qui magari vi rimane più impresso, perché quando faccio le presentazioni non scrivo mai i testi, però per renderlo ancora più importante, la domanda è, cosa stiamo facendo per evitare che le influenze epigenetiche e i fattori epigenetici danneggino le cellule, la qualità della vita e la salute delle future generazioni. Chi fuma, chi beve, chi mangia male, chi vive in un ambiente inquinato, hai carenze nutrizionali, hai sensibilità, cose che voi certamente sapete e che fate tutti i giorni, ma quanto questo che noi facciamo influisce e quanto quello che non sappiamo influisce ancora di più, come magari l'acqua contaminata, l'area contaminata, il cibo contaminato, i metalli pesanti. Bene, oggi abbiamo dei report personalizzati. La tecnologia S-Drive ci permette di lavorare sul sistema immunitario, sulla performance dello sportivo, sulla rigenerazione quindi in medicina estetica e poi altri report che abbiamo sul metabolismo e avere un quadro d'insieme, una visione come un GPS dall'altro che è in grado di vedere quello che ha bisogno la persona in quel momento. Quindi una vera e propria fotografia sui vari sistemi. Vedete quanti sistemi che segnala S-Drive? E quindi lavorare su quel sistema di cui la persona ha più bisogno. Il nuovo report che stiamo per lanciare è solo per medici e nutrizionisti è quello che contiene anche la pagina sul metabolismo. E guardate quante informazioni che possiamo avere da essere. è un valore aggiunto veramente importante al servizio che possiamo dare ai pazienti. È un posizionamento nel campo della salute, prevenzione e benessere dell'epigenetica all'avanguardia, incentrata quindi sulle ultime scoperte della scienza del benessere, report facili da interpretare e ti permette di conoscere il paziente o cliente in modo più professionale. Programma basato su un piano nutrizione e stile di vita personalizzato. Questa è la tecnologia S-Drive. Perché tutti voi, se lo ripetiamo da sempre, sì, sappiamo l'alimentazione, l'ambiente, lo stile di vita, le emozioni, ma non si nasce tutti uguali. La storia epigenetica di quella persona, i reali rischi congeniti, la disfunzione mitocondriale, il DNA mitocondriale, l'ambiente dove vive, lavora, condizionano pesantemente la vita di quella persona, sì o no? a partire da una carenza di ossigeno magari. Carenza di ossigeno, acidosi, acidosi, stress osativo, infiammazione. Se questo persiste, c'è un'infiammazione cronica. E pensate poi a tutti i fattori che qui vedete, sapete molto bene, che però non sono più quelli di 100-200 anni fa. sono sempre più altamente contaminati dall'inquinamento. E allora abbiamo bisogno di un approccio personalizzato per conoscere l'ambiente, lo stress e le eredità. Abbiamo bisogno magari di incominciare a parlare nuovamente di cellule, di salute delle cellule, piuttosto che di organi, magari anche di organi. È chiaro, voi siete abituati anche a questo. però incominciare a parlare di quanto sia importante mangiare per produrre idrogeno, respirare per avere l'ossigeno e produrre energia tipi mitocondriale importante, equilibrata. Questo dipende dall'apporto di ossigeno e idrogeno, ma cosa mangiamo e cosa respiriamo. Ma soprattutto siamo sicuri di avere una buona funzionalità cellulare. Ecco, S-Drive ci permette di andare a vedere, di avere una visione insieme e di capire cosa hanno bisogno le cellule, perché tutte le malattie si sviluppano a livello cellulare. E quindi incominciare a capire che l'ossigeno è la prima fonte di vita, perché se vi faccio stare senza respirare dieci minuti, voi morite. Muoio anch'io. Quindi l'ossigeno è la prima fonte, ma anche quello che arriva alle cellule è indispensabile. Quanto ne arriva? Quindi la modulazione fisiologica dell'ossigeno fondamentale, come comprendere in questo modo quali fattori ha bisogno quella persona oppure quali fattori stanno danneggiando quella persona. A partire dalle sfide ambientali, idrocarburi, radiazioni, radon, pensate a magari una persona che vive, dorme, lavora in una zona dove c'è radon e non lo sa che lo sta danneggiando. Basti pensare ai metalli pesanti, alle sostanze chimiche, agli idrocarburi, oppure all'impatto dei campi di alta frequenza, delle frequenze, telefonini sotto il cuscino, c'è chi dorme e solo abbraccia il cellulare, wifi sempre acceso e poi tutte le varie carenze. Ecco che questo effetto cumulativo dei fattori di rischio bisogna assolutamente conoscerli e aumentare il nostro sistema per compensare questi fattori stressori. Quindi cumulare, quindi anche la possibilità di migliorare la qualità della vita e l'aspettativa di vita. A cominciare da tutte le varie carenze, quindi conoscere i vari fattori e il ruolo di ogni vitamina, minerale, amminoacidi. e quanto siano importanti il ruolo delle vitamine, il ruolo dei minerali, il ruolo dell'impatto ambientale. Si parla pochissimo di quanto poi questi fattori condizionano pesantemente la nostra salute a partire proprio come vedete poi dai sintomi. Guardate, questo è l'AIL, congresso, curare e prendersi cura e ci dice che promuovendo misure urgenti di sanità pubblica, in Italia si registrano ogni anno 400.000 nuovi casi di tumore e 180.000 morti premature a causa del campo con una concentrazione di territori soggetti a inquinamento ambientale. Allora, se questo è vero, dobbiamo fare presto, parlare poi anche della gestione delle emozioni che come sapete è fondamentale. S-Drive ci permette anche di capire quanto sovraccarico di stress c'è in quella persona e quindi attraverso questi indicatori intervenire in maniera personalizzata e individuale perché tutte queste informazioni come sapete lavorano sul metabolismo e quindi sono una segnalazione. Basta pensare, voi conoscete bene ormai metabolomica anche questa è fondamentale molto importante ma mi permetto di dire che tutto quello che noi facciamo attraverso la metabolomica poi alla fine ci serve per produrre energia a livello cellulare. Quindi valutare puoi mappare i vari esami del profilo metabolomico metabolismo dei lipidi delle cellule delle condizioni acidative la carenza sì benissimo importante ma a mio avviso qui ci bisogna ci si può arrivare dopo quindi avere un'indicazione di quale test dobbiamo fare più mirato per quella persona e soprattutto incominciare a parlare di cause che poi mi creano quei metaboliti quindi incominciare a parlare non di malattie ma di prevenzione e supporto guardate l'inquinamento atmosferico agisce sulla metilazione guardate sette studi sulla lunghezza i telomeri hanno individuato prevalentemente telomeri più corti nei bambini maggiormente esposti all'inquiramento atmosferico e sappiamo quanto questa scienziata scienza che allunga la vita a cui ormai dedico tutti i nostri eventi è una vera e propria scienziata 253 articoli scientifici premio 9 alla medicina la rivoluzione dei telomeri dove si parla in maniera specifica precisa anche di tutto quello che sta condizionando la lunghezza dei telomeri dallo stress alla depressione stress prenatale traumi e poi inquinamento diete sbagliate ecco che in cominciare a parlare anche di donatori di gruppi metili mi viene in mente la carenza di estrusimetionina dei folati proprio per il controllo dell'omicisteina però spesso ci si arriva quando è troppo tardi o magari non sia chiaro che c'è una modifica un problema della materia HFR magari di metilazione magari si scopre in ritardo invece con S-Drive probabilmente si può avere uno strumento in grado di avere queste informazioni per a scopo preventivo predittivo e di miglioramento delle analisi e incominciare a capire ancora una volta questa è una pubblicazione dei medici dell'ambiente del 2016 dove ci dice attenzione tutti questi fattori aumentano lo stress nitrossativo e ossidativo e quindi danno ai mitocondri ma pensate se c'è già un danno mitocondriale silenzio magari dalla nascita trasmesso dalla madre in linea materna e questo aumenta l'infiammazione ecco perché è importante conosce gli indicatori epigenetici ecco perché già nel 2010 abbiamo sentito parlare no sul Times ah il DNA non è il tuo destino beh lo sappiamo ma se lo sai perché non lo fai perché non incominciamo a creare cultura nelle scuole negli asili nelle famiglie su questa grave emergenza tutte le scelte che farai in gravidanza condizionano la salute del tuo bambino dei tuoi figli e poi l'infiammazione silente silente vuol dire che c'è un'infiammazione che la vediamo quando è troppo tardi una bomba a orologeria dove dove non c'è solo un equilibrio nutrizionale da tenere presente ma anche ambientale psicofisico emozionale dove bisogna cominciare sì di fare scelte consapevoli e qui voi siete grandi professionisti lo fate sempre con i vostri pazienti ma potete fargli cambiare città lavoro casa magari vivono in una delle 200 terre dei fuochi in Italia da bonificare 200 98.000 siti da bonificare per amianto 6.000 morti l'anno per amianto allora vedete che l'epigenetica studia come perché ma cominciamo a sprogrammare la vita a livello embrionale e se questo è vero perché non utilizzare un sistema che ci permetta di capire i fattori che possono dare e danneggiare la salute delle persone prima o a supporto e quindi puoi rimettere in moto anche il ritmo sonnoveglia sapete quanto è importante quindi stiamo vivendo in questi ambienti dormendo in questi ambienti e aumentano le malattie e vorrei vedere guardate qui altro che stress aumenta il cancro nei bambini da 0 a 2 anni perché padri e madri sempre più malati l'atreroscheresi è una malattia epigenetica giornale italiano dell'atreroscheresi ma non solo ma anche in età pediatrica l'epigenetica rischio cardiovascolare quindi cominciamo a avere dei dati importanti ecco perché dico avere una possibilità di capire che ci sono dei fattori da dare o da togliere a livello cellulare prima che sia troppo tardi a mio avviso è un grande passo avanti per la medicina la salute e la prevenzione quindi non parlare solo di virus ma di tutti i fattori ecco l'epigenetica certo influenza metabolismo è pochettino quindi tutti i fattori inquinanti compriamo pubblicità veniamo in un mondo malato pensate al fumo passivo che abbiamo subito per decenni nei ristoranti negli aerei negli alberghi in casa i bambini non si sapeva se fumava fumavamo pubblicità no? la gara a fumare eppure pensate che il professor Boffi studuto tumori di Milano ci dice che inquina più di 15 auto il fumo di una sigaretta eppure si continua a fumare 140.000 sostanze chimiche 370.000 morti per tumore nel 2019 non se ne sente parlare tutti gli agenti chimici a rischio che mettono a rischio la salute delle persone e continuiamo a dire lo faremo li toglieremo nel 2050 e fino al 2050 facciamo le multe a chi inquina questa è la soluzione a voi che vi occupate di salute che siete grandi professionisti ecco perché e poi possiamo parlare anche di campi elettromagnetici sul fatto che stiamo bruciando i cervelli i nostri figli che li stiamo abituando a una vita virtuale probabilmente che crea dipendenza sapete che attiva le stesse aree cerebrali di zucchero e droga il telefonino e quindi crea dipendenza a utilizzarlo sempre dicono che dovrebbe essere vietato fino ai 14 anni il professor Fiorenzo Marinelli del CNR ma qui sono cose importanti guardate cosa fa un cervello di un bambino e i danni che provoca dalla radiazione elettromagnetica altro che stanchezza e mal di testa li facciamo nascere svilupparsi e crescere qui dentro la casa e qui questo è uno studio importante attenzione riduciamo il rischio si sono adoperati gli ospedali in Germania però io dico ma se lo tolgono in Germania perché si sono negli ospedali perché si sono accorti che fa molto male la salute cosa stiamo facendo noi per le nostre case in macchina il nostro cellulare che ormai siamo dipendenti dobbiamo incominciare a proteggerci guardate i danni che fa l'acqua poi sentiremo anche il professor Spaggiari quindi tutto entra nel circolo biologico della vita e poi attraverso il feto passa al bambino e qui all'AIL c'è una comparsa dei tumori con tale epigenetica le mutazioni trasmissibili alla terza generazione quindi dobbiamo incominciare di lavorare sulla salute dei padri delle madri prima del concepimento se vogliamo parlare di vera salute e vera prevenzione non possiamo leggere il regalo che tua madre non vorrebbe mai farti ma a volte è inconsapevole questo come fa? certe volte non lo sanno certo il fumo se fumi lo sai che fa male se bevi lo sai che fa male però vedete il particolato aerodisperso PM05 PM1 2.5 passa a livello embrionale e sprogramma la vita già a livello fetale e ciò ce lo dice questo documento del 2018 fine 2018 che ho scaricato dal Senato della Repubblica 192 pagine guardate effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori delle malformazioni fetoneonatali ed epigenetiche ormai lo sappiamo già guardate tutta la letteratura le revisioni della letteratura già con tutti questo studio su questo portale dei primi mille giorni di vita guardate già sappiamo tutto i danni che stiamo facendo le future generazioni l'obesità in aumento stiamo arrivando al 40% e si programma a livello epigenetico già nella pancia della mamma allora cosa vogliamo fare vaccinare il pesce o pulire la vasca ogni riferimento è puramente casuale quindi dovremmo incominciare a questa unione di forze per creare cultura rigenerare energia a livello mitocondriale lavorare sui mitocondri sul fatto che la comprensione del fatto che il DNA mitocondriale decide la longevità quindi la salute ancora una volta della madre e dei padri che il mitocondrio è fondamentale per la prevenzione di malattie degenerative e vecchiamento quindi stiamo parlando di cellule stiamo parlando di epigenetica stiamo parlando dell'importanza dei mitocondri per proteggerci dagli inquinamenti ma anche guardate guardate questo è un studio USA ci dice le mutazioni del DNA mitocondriale ereditate per via materna influenzano sia il microbiota intestinale sia le malattie a esso correlato anche qui carenza di ossigeno DNA mitocondriale mitocondri epigenetica tutte le malattie sono legate alle malattie mitocondriali ce lo dice la fondazione di medicina mitocondriale anche sul sito importante dell'istituto Besta di Milano ci parla di questo sull'importanza di ricaricare i mitocondri le batterie nostre della vita e invece noi andiamo nel panico quando non abbiamo il telefono carico e poi il supporto dell'ossigeno fondamentale guardate quanto è importante l'ossigenazione si studia sul libro di testo fino al terzo anno di medicina su Guiton ma premio Nobel la medicina a parte Warburum ma pensate al premio Nobel la medicina 2019 sulla modulazione dell'ossigeno all'adattamento delle cellule noi abbiamo scritto un libro proprio la modulazione fisiologica di ossigeno on demand insieme a altri 20 medici è nato da un mio sogno che è nato pensate nel 1999 e quindi contrastare anche tutte le varie forme di ipossia ipossia anemica stagnante isotossica ipossica quindi anche sull'ischemia riperfusione fondamentale mantenere un adeguato porto di ossigeno noi abbiamo fatto numerosi studi se poi siete interessati siamo a disposizione perché dobbiamo riprogrammare le cellule ma io dico ma andando su questo sito io sono sempre alla ricerca e dico epigenetica l'epigenetica studia come letale esposizione ai fattori ambientali tra cui agenti fisici e chimici dieta attività fisica possono modificare l'espressione digitale quindi una volta che io ho studiato che queste cose e ormai la letteratura è infinita stanno danneggiando la qualità della vita e la salute delle persone cosa sto facendo per capire cosa sta danneggiando il paziente quale strumenti abbiamo a disposizione se io so che tutto questo è epigenetica dobbiamo incominciare a parlare di medicina personalizzata predittiva preventiva e partecipativa però facendo sul serio dove incominciamo a evitare i problemi invece che risolvere i problemi o prevenire i problemi e quindi ecco perché gli indicatori epigenetici che possono aiutarci con report personalizzati quindi sul sistema immunitario eccetera quindi avere chiaro che questi sistemi possono essere mappati e intervenire veramente in soli pensate questa risposta del test S-Drive in 12 minuti perché ci viene in aiuto la biofisica ne sentiremo adesso dal professor Spaggiari perché la biofisica come ci dice il CNR di Bologna in questo sito proprio nel titolo abbreviare la distanza tra la complessità della vita e la semplicità delle leggi fisiche è la sfida che ha la fisica scoprire i meccanismi di funzionamento della materia vivente analizzarli con approcci matematici fisici e biofisici è un approccio portentoso per migliorare la nostra conoscenza aggiungo esistenza lo facciamo già lo fate già prescrivendo la risonanza magnetica questa è medicina quantistica è biofisica l'elettrocardiogramma è biofisica l'elettrocardiogramma lo sentiremo i cellulari che voi utilizzate gli orologini come funziona come funziona è chiaro lavorano con la risonanza con le frequenze con la lunghezza d'onda e nel caso della materia ogni lunghezza d'onda ogni spettro lo spettro permette di risalire alla lunghezza d'onda e alla frequenza di quella sostanza quindi se io la conosco e riesco a capire la sua vibrazione e la sua frequenza posso risalire alla sostanza e noi lo facciamo con questa tecnologia S-Drive che è in grado di generare uno spettro di frequenze dall'ultravioletto all'infrarosso che poi andrà in risonanza poi sentiremo da professor Spagiali con le frequenze del bulbo del capello di quella persona che contiene tutte le informazioni quell'archivio quello USB che ha archiviato tutte quelle informazioni nell'arco dei 90 giorni e non solo quindi sapere poi alla fine le informazioni quello che ha bisogno la persona in che ambiente se è stato contaminato da campi elettromagnetici da metalli pesanti dal sistema gastrointestinale eccetera eccetera sappiamo quanto sia importante il capello il bulbo del capello ancora di più viene utilizzato come biomarker sapete per l'esposizione alle sostanze tossiche ma perché? perché è un'antenna tra micro e macro ambiente va direttamente alla matrice quindi archivia tutto la NASA utilizza i capelli per la salute degli astronauti ma pensate viene utilizzato anche per i disturbi psichiatrici ma ancora di più il bulbo del capello viene utilizzato pensate per come biomarker più affidabile per il cortisolo perché tiene 90 giorni le informazioni e oltre quindi è un incredibile biomarker praticamente indistruttibile e noi cosa facciamo una volta che viene mappato questo poi viene inviato tutte le informazioni vengono archiviate sul computer poi inviate ad Hamburgo in Germania e dove c'è naturalmente questi super computer quantistici che sono in grado di elaborare questi dati l'onda caratteristica di quella persona il professor Spaggiari poi parlerà proprio di questo 800 marcatori chiave cioè 800 segnali importanti che S-Drive è in grado di mappare e quindi di far conoscere al professionista per capire cosa ha bisogno o cosa stia danneggiando la persona e addirittura ci dà la priorità di intervento naturalmente tutte le certificazioni compresa il parere dell'FDA che ci dice la tecnologia S-Drive è un utero strumento per promuovere la buona salute promuovere uno stile di vita sano motivare incoraggiare sostenere il raggiungimento degli obiettivi salute e benessere perché la diagnosi la fa il medico con vari strumenti quindi questo è fondamentale S-Drive non fa diagnosi questi sono i vari certificati a disposizione poi è interessato addirittura nel 2021 abbiamo avuto questo premio straordinario certificato di tecnologia rivoluzionaria in Svizzera quindi questo report dei fattori epigenetici non report epigenetico report epigenetico è sbagliato report dei fattori epigenetici e vedete qui poi lo vedrete dopo qualche esempio abbiamo subito in pagina 3 un riassunto dove dobbiamo intervenire il riepilogo è quello di cui ha bisogno la persona e cosa lo stia danneggiando tecnologia S-Drive in moltissime cliniche pensate nella clinica anche del Real Madrid Paris Saint Germain Barcellona il dottor Peiro Mozzo che è quello in alto a sinistra sarà con noi a Bologna il 9 porterà tutta la sua esperienza sui vari grandissimi atleti che lui segue con la tecnologia S-Drive sicuramente farmacie farmacie atleti internazionali che utilizzano il supporto di questa tecnologia per migliorare il loro recupero performance eccetera ecco vi concludo invitandovi alla scuola di alta formazione se siete interessati ma concludo con questo messaggio che voi conoscete bene ma io sprono ancora a aumentare questa consapevolezza di questo messaggio che sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù non vi ho convinti venite a vedere ecco l'importante per avere ancora una volta quanto sia importante utilizzare questo sistema vi sprono anche a a testarlo su di voi a provarlo è qualcosa di veramente straordinario da un punto di vista clinico questo serve non fa diagnosi non fa analisi permette di capire cosa abbiamo bisogno e cosa si sta danneggiando e da un punto di vista clinica come anamisi è qualcosa di veramente di eccellenza e ancora chiudo con le vitamine più importanti al mondo che sono quelli dell'amore perché la vita senza amore non ha senso è questo che ci spinge a fare sempre del nostro meglio a unire le forze a mettere insieme persone che hanno la passione di aiutare le persone a vivere meglio questa è la mia mission dal 1999 sono onorato di aver condiviso con voi grandi professionisti questo nostro sogno questa nostra voglia di fare la differenza aiutare le persone grazie veramente di cuore a tutti e proseguiamo la serata grazie a tutti grazie a tutti